Per tutti gli operatori dell'audiovisivo, per tutti coloro che lavorano nell'audiovisivo, per tutte le figure che lavorano nell'audiovisivo. Questo perché, come sappiamo, soprattutto chi lavora nel nostro settore, le aziende del ramo televisivo non hanno quasi più personale interno. Diciamo che tutto il lavoro viene appartato a ditte esterne. Per cui il buon 90% dei servizi che voi vedete in televisione, dalla ripresa fino al montaggio, dal montaggio alle grafiche, a qualsiasi settore dell'audiovisivo, viene fatto da operatori esterni. Il problema fondamentale qual è? Che a differenza di chi lavora sotto contratto nell'azienda televisiva ed è tutelato in ogni sua parte, grazie ai contratti collettivi nazionali, e viene anche tutelato dai tre grandi sindacati, che sono CGL, Cisle e Will. Per tutti coloro che invece sono esterni, anche a causa del fatto che la maggior parte delle società esterne non hanno più di 15 dipendenti, per cui i sindacati non possono entrare e tutelare, diciamo che tutti questi esterni, che in realtà sono il 90% di quelli che fanno televisione, non sono affatto tutelati. Per questo motivo è nata l'ASA e per questo motivo l'ASA da cinque anni sta cercando di difendere queste figure lavorative. Il problema fondamentale qual è? Che queste figure lavorative vengono chiamate tra virgolette gli invisibili, perché praticamente non sono riconosciute in nessuna maniera, non hanno diritto di firma, a differenza degli interni, e molte volte essendo parcializzati in diverse strutture, ad esempio, essendo parcializzati in partite IVA, essendo parcializzati in contratti collettivi differenti, che vanno da quelli migliori ai peggiori, non sono assolutamente mai considerati. Allora, la nostra idea qual è? La nostra idea qual è? La nostra idea è fare in modo che chi fa il nostro mestiere sia certificato. Nel momento in cui sia certificati si possono tutelare tutte le nostre figure, nel momento in cui sia certificati non si possono fare gare a ribasso, nel momento in cui sia certificati non si può chiamare un pinco vallino qualsiasi, come succede in questo momento, per fare le riprese o per montare o per mandare i replay e le partite. Per cui noi chiediamo la certificazione, una certificazione che deve essere fatta tramite dei corsi, e poi tramite un esame, una volta certificati, creare un vero e proprio albo. Se ne parla da anni della creazione dell'albo è sempre stata una cosa molto difficile da fare. Noi ci crediamo, cerchiamo di portarla avanti e grazie all'aiuto di Federico Bonlicone stiamo riuscendo a fare i primi passi per, questa è una proposta di legge, a fare i primi passi proprio per la creazione di un albo. Sembra utopia, perché sono anni che se ne parla nel nostro settore, però sembrava utopistico anche quando siamo nati cinque anni fa, sembrava utopistico anche quando abbiamo fatto capire alle persone quali sono i loro diritti e i loro doveri, sembrava utopistico anche quando l'ASA è riuscito a far prendere soldi ai nostri destrati che per anni non riuscivano a prenderli. Tante cose sembravano utopistiche, ma noi ci crediamo, ci crediamo, portiamo avanti il nostro progetto, lo portiamo avanti con forza, tant'è che l'ASA, oltre all'attività sindacale, fa anche attività di formazione e proprio in questo momento stiamo facendo diversi corsi di formazione, proprio perché vogliamo, visto che pretendiamo il riconoscimento della nostra categoria, visto che pretendiamo una firma sui servizi, visto che pretendiamo tante cose, se le pretendiamo bisogna anche meritarcele, per meritarcele dobbiamo essere il top della nostra categoria, dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere migliori della nostra categoria e grazie a questo potremo formare un albo, perché altrimenti sarebbe impossibile. Dò un attimo la parola a Beatrice Bonaiuto, che è la nostra responsabile per quanto riguarda i grafici. Sì, buongiorno, grazie Nico. Dunque, il nostro è un mestiere che richiede una preparazione tecnica specifica. Questa preparazione tecnica può essere acquisita ad oggi tramite diversi canali e purtroppo però non è mai esattamente ciò che serve poi sul campo, diciamo. Di conseguenza il fatto che sia relativamente semplice acquisire le conoscenze tecniche necessarie ma che queste non siano poi effettivamente al 100% efficaci quando ci si trova in ambito lavorativo rende piuttosto instabile al mercato sia per chi ci lavora che per chi richiede il lavoro dei tecnici in quanto ci si ritrova spesso con persone non completamente preparate per inesperienza o per superficialità anche a volte che però tranquillamente vengono messe a svolgere alla metà del prezzo il lavoro di una persona più esperta e più preparata. Di conseguenza rendendo anche quindi la qualità del risultato sempre più decadente, sempre più approssimativa e questo capita in tutti i settori dell'audiovisivo. e di conseguenza la proposta è quella di provvedere alla formazione e alla certificazione professionale appunto qualificante che renda il settore meno dispersivo e più identificabile, quindi che abbia un'identità più specifica e che possa offrire garanzie e sicurezza e a propria volta pretendere un certo tipo di garanzie come da diritto del lavoro insomma riconosciuto in questa Repubblica. quindi l'obiettivo è quello dunque di rendere più chiaro e meno dispersivo sia la domanda che l'offerta in questo settore e che esistano più sicurezze e più garanzie sia per i lavoratori che per i committenti. Grazie mille. Grazie mille. Che cosa vuole dire? Che nelle prossime gare che farà la RAI chi vuole partecipare potrà partecipare una volta che la legge diventerà legge a tutti gli effetti potrà partecipare soltanto chi è iscritto a questo albo altrimenti non può partecipare. Buongiorno a tutti, Alessandro Falcone di una nuova associazione di categoria cinema, TV Spettacolo. Scusatemi, buongiorno a tutti, Alessandro Falcone, presidente di una nuova associazione di categoria TV Cinema Spettacolo. Siamo qui, come ha ben detto Nicola, per iniziare a spronare ciò che da anni si sta cercando di fare, con molta fatica, ma ormai siamo ad un buon punto. Il riconoscimento della categoria e la qualifica adesso è importante per il mondo dell'audiovisivo. Rispetto a qualche anno fa, dove c'era un percorso portato avanti più dalle televisioni, dalle emittenti private e dalle reti dove all'interno si formavano e si creavano dei professionisti, il mercato ovviamente adesso si è allargato, arrivano sempre più, tra virgolette, nuove figure, nuovi professionisti che hanno voglia giustamente di intraprendere questa carriera. Però si trovano all'interno di un mercato dove non è tutelato, di un mercato dove non c'è un controllo della professione, un controllo della qualità e c'è il rischio che anche queste nuove figure, quindi tra virgolette questi aspiranti lavoratori del mondo audiovisivo, non crescano nel miglior modo possibile, nel senso che riescono a coltivare la loro passione e magari diventare professionisti non tutelati e non con la forza di una figura che li segui e che li formi essenzialmente. Sono indubbiamente, non sono soggetti ovviamente ad una formula di riconoscimento perché di fatto siamo qui proprio per portare avanti questa nuova norma e questa nuova ricerca di un nuovo albo o comunque di una nuova entità, ecco, di un nuovo organo. Il professionista dell'audiovisivo in Italia è un grande lavoratore, quindi credo che sia arrivato il momento, crediamo, che sia arrivato il momento di un riconoscimento, di una qualifica, di una rivisitazione dei contratti collettivi nazionali del lavoro, perché ci sono qualifiche che in qualche modo non corrispondono o magari non rispecchiano la professione stessa. Noi come associazione di categoria WMP da ormai qualche anno stiamo cercando di portare avanti un tema importante di una qualifica e di una professione del mondo della televisione chiamato tecnico WMP. Stiamo cercando di risanare per l'appunto e di trovare una nuova formula anche a livello di nome, anche a livello di qualifica stessa, perché il tecnico WMP ad esempio registrazione videomagnetica allo stato attuale non è delle più favorevoli come nominazione e quindi come indice di riconoscimento. Sono ormai due anni che stiamo cercando di far emergere la categoria, creare formazione professionale come Nicola accennava prima perché crediamo moltissimo nella formazione professionale e stiamo cercando ovviamente di tutelare il professionista che sta nel mercato del libero e del freelance. Crediamo che sia arrivato il momento di non essere più invisibili, quindi magari lanciare un altro messaggio, probabilmente noi esistiamo quindi io esisto, credo che sia il messaggio giusto. Nulla, speriamo che essere qui ci porti nella strada o meglio nella finalità che avevamo deciso tempo fa. Buongiorno a tutti, grazie all'ASA per questo spunto che ha portato alla presentazione di una, questo è un testo di partenza, adesso poi ovviamente potrà essere migliorato, però va a incontrare un'esigenza e a sposare un riconoscimento di un mondo e di professionalità che spesso sono invisibili perché appunto come anche in questo momento sono dietro la telecamera ma per stare dietro la telecamera, essendo uno strumento tecnologico in continuo sviluppo ed evoluzione, bisogna avere una conoscenza professionale di come si usa l'apparecchio, di come si fa un'inquadratura, di come si gestisce la luce, di come si gestisce la profondità, i piani di ripresa e basta citare il cinema per capire quanto può essere importante un modo di riprendere, uno stile, una tecnica rispetto a un'altra e allora non si capisce per quale ragione nel lavoro, nel giornalismo, appunto nell'organizzazione delle troupe non debba essere riconosciuta questa professionalità. Questo non vuole essere un attacco allo spontaneismo che si è creato in questi tempi per cui il cosiddetto web journalism, per cui c'è la spontaneità di chi fa notizia riprendendo col telefonino, però è un altro contesto. Se un'agenzia, se un emittente nazionale, se una testata ufficiale, anche online, decide di avere un canale di web television, di procedere con servizi, i servizi devono essere fatti professionalmente. Perché? Perché è un rispetto per gli utenti, è un rispetto per questa professionalità. Quindi credo che la rivendicazione dell'ASA sia corretta e credo che la RAI in particolare, ma questo io ne ho fatto già battaglia in vigilanza e sono intervenuto anche in audizione con la direttrice degli acquisti, abbiamo rivendicato il fatto che debbano essere rispettate queste professionalità. L'abbiamo detto anche all'amministratore delegato Salini, quando è venuto più volte in audizione nell'ambito dei vari fasi, anche sul piano industriale. Non si può giocare a ribasso andando a liberalizzare un settore, andando a colpire la professionalità, non prevedendo un albo che certifichi la qualifica di operatore. Problema che peraltro tra poco affronteremo anche rispetto ai comunicatori, tra i quali appartengo anche io. Io vengo dalla storia, ho fondato un'agenzia, ho fatto per anni questo lavoro e a tutt'oggi, al di là del titolo di laurea, non sei comunque riconosciuto come operatore della comunicazione. C'è giusto un registro, ma non è un albo. Quindi noi su questo c'è il nostro massimo impegno, c'è il grande rispetto per questo lavoro, che è anche un lavoro di servizio pubblico, di informazione, ma può essere e è sicuramente anche artistico, perché in base a come faccio un'inquadratura, come faccio un servizio, come faccio una ripresa, do un taglio a quel servizio, a quella ripresa e a quello che creo magari anche uno stile. Ci sono storie nel giornalismo italiano, per cui un certo tipo di ripresa, un certo tipo anche di tecnica televisiva, ha creato poi un genere anche giornalistico. Quindi credo che sia una proposta di buon senso, poi ripeto, è un testo base, ancora emendabile, nell'iter aperto a tutti i contributi, anche alle osservazioni critiche, qualora ci dovessero essere, della maggioranza o di altri gruppi parlamentari. L'importante è comunque affrontare e sollevare il problema, perché il problema esiste e la professionalità degli operatori va rispettata. ringraziamo Federico Pollicone, proprio perché grazie a lui si sta cominciando un percorso, un percorso un po' lungo, forse tortuoso, ma che siamo convinti arriverà a buon fine, perché la costituzione di un albo, la costituzione di una certificazione, speriamo poi più là anche il riconoscimento di una firma sui nostri servizi. Non si capisce perché non ci firmano i servizi. Scusa, questo mi sono dimenticato, è un altro punto qualificante, è assolutamente fondamentale, ho fatto riferimento al cinema. Nel cinema ci sono gli operatori di ripresa, nelle grandi produzioni ci sono indicati nome per nome, in base anche se ci sono più troupe, se ci sono più gruppi di ripresa, sappiamo che i grandi produzioni hanno turni di ripresa, giornate alternative o magari contemporanee e ogni gruppo, ogni truppa ha il suo capo ripresa e tutti gli operatori e firmano un film e stanno nei titoli di coda, quindi non si capisce per quale ragione non debbano stare su un servizio giornalistico. Volevo solo approfittare della situazione, per toccare un attimo un tasso un po' addolente, come sappiamo tra pochissimo a causa di alcune scelte condivisibili o non della RAI, molti operatori fonici sul territorio di Roma perderanno il proprio posto di lavoro. voglio dire che l'ASA sta al loro fianco e abbiamo provato in tutte maniere di fare in modo che questo non accadesse. Dopo tre anni e mezzo di lotte purtroppo questa cosa accadrà, si dice dal primo agosto. L'ASA starà vicino a tutti coloro che perderanno il posto di lavoro, mettendo a disposizione qualsiasi mezzo, sia da un punto di vista legislativo, sia da un punto di vista anche di ricollocazione, come abbiamo fatto in altre situazioni, ricollocazione magari in altri settori, per far sì che nessuno perda il proprio posto di lavoro. una piccola stoccatina in un momento così grave dal punto di vista economico, in un momento in cui già l'economia del nostro settore, ma non soltanto, però noi stiamo parlando del nostro settore, l'economia del nostro settore è andata a capofitto, nel momento in cui già molte case di produzione stanno chiudendo perché non c'è il lavoro, perché le produzioni audiovisive hanno chiuso a causa del Covid, cioè una situazione già così disastrosa non si capisce perché la RAI debba dare l'ultima stoccata, poteva perlomeno aspettare settembre, ottobre, novembre, in un momento in cui magari l'economia si risollevava, invece ha deciso di dare il colpo finale e in questo modo di far chiudere tante produzioni. Ringraziamo ancora Federico Pollicone per l'opportunità che ci ha dato, grazie a tutti. Grazie a voi, ovviamente solidarietà agli operatori, abbiamo sollevato questo tema anche in vigilanza, ma la risposta degli acquisti di RAI è stata, diciamo, transcian, ora sappiamo che ci sono anche dei contenziosi in essere e vediamo anche come evolverà. Grazie a voi. Grazie a tutti. Buona giornata, grazie. Grazie a tutti.